Un ecomostro da 161 ettari a due chilometri e mezzo dalla costa di Ortona con 40 isole galleggianti di plastica, piattaforme alte 20 metri e zattere. Una copertura tecnologica che parte dalla passeggiata di Ortona ma che coprirà gran parte del mare. Questa è la descrizione fatta dal biologo Giovanni Damiani, esponente di Italia Nostra, dell'impianto fotovoltaico che ha già prodotto un terremoto nella maggioranza di centro-sinistra, al punto da far annunciare al sindaco Leo Castiglione le dimissioni neanche dopo un anno dalla sua rielezione nel giugno del 2022. Il documento, un focus sull'impatto che il nuovo impianto potrebbe avere tenendo conto di vari aspetti, la biodiversità, l'economia della piccola pesca, che potrebbe essere interdetta nel raggio di 14 chilometri e, che dire, del paesaggio con le inevitabili ripercussioni sul turismo. E' la luce solare che avvia tutte le catene alimentari e tutta la vita acquatica. Mettere in penombra 161 ettari significa creare la morte dentro a questi fondali della stragrande maggioranza delle specie. Questo progetto confligge con tutto l'articolo 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio, tutela gli ecosistemi, tutela l'ambiente e tutela gli animali. E lì avremo una strage, praticamente. C'è anche il rischio di incidenti, perché abbiamo elettrodotti, corrente elettrica. In caso di una forte mareggiata non si sa che cosa può succedere, insomma, se si ha il disancoraggio. A questo si aggiunge il fatto che la Regione, con apposita delibera di giunta del 9 gennaio del 2023, ha adottato il progetto speciale della Costa dei Trabocchi, che contrasterebbe con il piano in questione. Bisogna anche tenere in considerazione che il Comune di Ortona ha approvato anche il nuovo piano regolatore. E nel nuovo piano regolatore, che è stato approvato, segue gli stessi criteri e gli stessi principi di questo piano. Allora, cosa facciamo? Ok alle fonti rinnovabili, ma con le comunità energetiche. Questa è la posizione dell'Associazione e l'occhio ben attento sulle conseguenze inevitabili.